Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming. Benvenuti su Destiny 2 in questo nuovissimo video analisi in cui parleremo delle nuove sottoclassi da vuoto che saranno disponibili a partire dalla regina dei sussurri. Giusto per chiarire, non sono effettivamente delle nuove sottoclassi, parliamo di quelle vecchie che verranno reworkate nella versione 3.0 e che raggiungeranno per così dire lo standard imposto dalle sottoclassi di Stasi, che per quanto ne riguarda la personalizzazione sono senz'altro quelle più elaborate e anche più soddisfacenti da utilizzare, o per meglio dire da costruire. Ma giusto per dare un minimo di contesto, in previsione dell'ormai molto imminente espansione, Bungie ha rilasciato il classico V-Doc in cui presenta un po' i nuovi contenuti e discute di qual è stata la filosofia dietro alcune scelte. Come sempre un ottimo modo per parlare del più e del meno circa dei nuovi contenuti senza dedicare un'intera diretta come si faceva diversi anni fa. Un modo di comunicare che personalmente mi piace e all'interno di questo V-Doc, dalla durata di circa 14 minuti, lo trovate tranquillamente sul canale YouTube di Destiny 2, è stata presentata la nuova campagna. Si è parlato del falcione, la nuova tipologia di armi che verrà introdotta e di cui naturalmente parlerò sul canale. Si è parlato dell'enclave, il nuovo sistema di crafting che sarà disponibile proprio insieme al falcione e insieme alla regina dei sussurri. Ed al proposito so bene che il funzionamento di questa dinamica di gioco è stata presentata settimana scorsa, ma visto che ormai l'uscita è imminente e visto che ho già in previsione di portare un video guida spiegando nel funzionamento e tutto ciò che comunque dovrete sapere, ho preferito non parlarne per il momento sul canale per evitare contenuti ridondanti. Tanto a partire dal 22 febbraio sarà sicuramente una delle prime cose che farò e ve ne porterò anche video a riguardo. E sempre all'interno di questo V-Doc si è parlato finalmente delle sottoclassi da vuoto, che sono l'oggetto principale di questo video. Il dettaglio completo di tutte le novità che ci saranno lo potremo scoprire soltanto a partire dal 22 febbraio, perché effettivamente potremo utilizzare queste classi e pian piano sbloccare i vari potenziamenti. La logica di fondo è che questa riedizione delle vecchie sottoclassi si identica dal punto di vista della configurazione alle sottoclassi della Stasi introdotte con oltre la luce. Era un cambiamento che Bungie in realtà aveva già annunciato, quindi non parliamo propriamente di novità. A conti fatti però è la prima volta che vengono veramente mostrate ed è anche l'occasione in cui Bungie ha confermato che a seguire ci saranno quelle solari e quelle ad arco, presumibilmente nel corso del prossimo anno o prossimi anni. Sperando che non decidano di farne soltanto una per espansione, cosa che purtroppo mi aspetto. Però vabbè, a parte questo la configurazione come dicevo sarà la stessa della Stasi, quindi abbiamo le abilità, che sono la terza abilità per ogni classe, la superabilità, la tipologia di granate e cose di questo tipo. Abbiamo le nature che sono effettivamente dei perk o potenziamenti aggiuntivi e abbiamo poi i frammenti, che sono piccoli potenziamenti che vanno a migliorare alcune statistiche della sottoclasse. Naturalmente l'aspetto più interessante di tutte queste modifiche riguarda le nature, visto che come abbiamo già visto con la Stasi impattano maggiormente il gameplay. Ad esempio nel caso dello stregone da vuoto ne sono state mostrate due. Una è Chaos Accelerant, che sostanzialmente era uno dei perk già disponibili prima nei rami, che permette di potenziare le granate tenendo premuto il tasto. Inoltre da questa schermata è possibile vedere anche che ci siano ben quattro tipi di granata, mentre prima per le classi vecchie erano soltanto tre, mentre la seconda natura mostrata è Child of the Old Gods, che permette di evocare un piccolo buco nero assieme all'attivazione della fonte, e questo risucchierà o energia delle granate e dell'abilità corpo a corpo o vita a seconda del tipo di fonte utilizzata. Un piccolo potenziamento che alla fine andrà a aumentare il sustain del guardiano. Oppure ancora per quanto riguarda il titano, una natura che potenzierà la barricata, e quando verrà attivata, userà il suo scudo della sentinella per posizionare una nuova barricata, che fornerà sovrascudo a tutti gli alleati vicini dietro di essa. Un altro dettaglio molto importante è che tutte le classi avranno accesso ad abilità di soppressione. Non è chiaro se direttamente tramite le granate o tramite le nature, fatto sta che tutti potranno usufruire di questa abilità, il che è molto importante perché in questa espansione pure i nemici avranno la luce, e soprattutto nelle attività più difficili, abilità di questo tipo potrebbero tornare molto utili. Ragazzi questo è quanto è stato mostrato per quanto riguarda le nuove sottoclassi da vuoto, personalmente sono molto curioso, non vedo l'ora di vedere quelle solari che tendenzialmente le ho sempre preferite, ma pure questi piccoli cambiamenti mi rendono molto molto felice, perché vanno a migliorare un sistema di sottoclassi ormai datato e che soprattutto sfigura davvero molto vicino a quello della stasi, che a oggi è quello più complesso ed elaborato. E in ogni caso per quanto riguarda questo video analisi è tutto, come al solito vi ringrazio per la vostra attenzione, spero il video sia stato di vostro interesse e vostro gradimento e se così fosse vi invito a lasciarmi un mi piace, un commento ed iscrivervi per tanti altri contenuti a tema Destiny che vi assicuro arriveranno. Io vi saluto e ci sentiamo alla prossima, ciao a tutti ragazzi!